Musica Accordo Inca Cigelle e Inal in merito agli infortuni sul lavoro nel settore sanitario. Triste e primato per la Calabria, scarsità di informazione e di prevenzione ma soprattutto precarietà del lavoro la causa principale. Nessuna risposta alla Cigelle in merito alla richiesta alla Regione di un incontro. Intanto la situazione degli infortuni sul lavoro purtroppo drammaticamente aumenta giorno per giorno il numero delle vittime sul lavoro. La Calabria è un triste primato quest'anno con il primo posto che a noi questa cosa dispiace e dobbiamo intervenire aumentando la cultura e soprattutto i provvedimenti nelle aziende e per la tutela sul lavoro anche da parte degli RLS nostri. Questo progetto che oggi parte con una convenzione Inca-Inail è importante perché intanto lo facciamo in un ambito specifico come quello della sanità quindi infortuni sul lavoro in campo sanitario. È importante perché inoltre a creare una cultura diversa del lavoro e della sicurezza sul lavoro pone l'accento sulle nuove malattie professionali che oggi non sono tabellate dall'Inail per cui la distribuzione di un questionario è finalizzata a scoprire le nuove patologie e a far sì che l'Inail, quindi lo Stato, riconosca queste malattie professionali. Abbiamo accertato per esempio che il lavoro notturno, con studi che arrivano dagli Stati Uniti, dal Belgio, dall'Olanda, regano danni tumorali anche alle donne, soprattutto il tumore al seno, a coloro le quali sono interessate alla turnazione notturna. Oppure, per esempio, il rischio muscolo-scheletrico per gli spostamenti, carrelli oppure spostamento del paziente e così via, soprattutto in ambito infermieristico. Poi ci sono tutti gli operatori che stanno nell'ambito degli ambienti dove ci sono le radiologie oppure in emodinamica e così via, ci sono alcune malattie professionali che stanno avanzando e che vanno tutelate e vanno, come dire, anche messe sotto screening perché l'Inail poi le riconosca come malattie professionali. Poniamo l'accento anche su un altro grave problema che è quello delle aggressioni agli operatori sanitari. è un fatto grave che non è solo imputabile alla mancata sicurezza nell'ambiente sanitario ma è proprio una cultura che noi dobbiamo creare. Quindi, anche perché collaboriamo con la funzione pubblica? Perché anche nel livello di contrattazione di secondo livello vengano poste queste tematiche e queste problematiche affrontate con convinzione di causa utilizzando gli strumenti che abbiamo non solo legislativi ma anche normativi. Quindi questo accordo ha che scopo? Per riconoscere questo problema, questo ulteriore problema sul lavoro e quindi in che modo tutelare i lavoratori? Sì, sostanzialmente la distribuzione del questionario ai singoli lavoratori serve per fare uno screening perché andiamo a individuare non solo quello che è previsto dal documento di valutazione rischi che ogni azienda deve valutare e deve avere ma anche per scoprire le nuove patologie avendo anche una storia della salute del lavoratore e soprattutto guardando in quali ambiti, in quali reparti per cui individuiamo poi le patologie attraverso l'utilizzo noi utilizzeremo medici specialisti della medicina per il lavoro proprio perché l'Inail poi utilizza questi dati per fare una banca dati e certificare e quindi tabellare queste malattie professionali noi per intervenire individualmente e chiamare il lavoratore per dire guarda questa malattia può essere indennizzata dall'Inail e può essere anche tutelata dal punto di vista sanitario Quali i dati sugli infortuni in merito appunto al settore sanitario? Partiamo perché l'incontro è su questo questa mattina che l'Inail ci può fornire? Allora guardi, ancora i dati non sono consolidati però noi abbiamo dai nostri dati interni tipo 480 casi di infortunio riconosciute e per quanto riguarda le malattie professionali il dato è inferiore è naturale che la giornata di oggi è concentrata sul discorso dei rischi dell'ambiente sanitario che vanno dal rischio biologico al rischio muscoscheletrico a tutte le patologie quello che si vuole fare in un'ottica trasversale proprio è il concetto di prevenire i rischi e quindi anche gli infortuni e le malattie professionali in ambito sanitario attraverso la distribuzione di un questionario ai dipendenti poi ci saranno delle azioni informative e formative oggi già parte il primo seminario e per quanto riguarda poi l'azione divulgativa finale con Deplian l'importante però è rendersi conto che il rischio totale non può essere eliminato però bisogna agire tutti insieme in un sistema di relazione interfunzionale anche con le parti sociali per comunque diminuirlo fare in modo che insomma si attui il principio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sì purtroppo abbiamo una situazione drammatica all'interno dei luoghi di lavoro per quanto riguarda la salute e sicurezza abbiamo la necessità di riprendere un percorso attraverso il quale innanzitutto facciamo crescere anche tra i lavoratori maggiore consapevolezza e una cultura della salute e sicurezza in modo tale che si creano le condizioni per subire meno conseguenze dai rischi che nei luoghi di lavoro purtroppo si riscontrano In un momento in cui il lavoro è precario quindi probabilmente l'attenzione nei confronti della sicurezza del lavoro è scarso e anche diciamo le pretese dei lavoratori appunto visto appunto la precarietà sono diminuite questa precarietà quindi può essere un punto a sfavore per la Calabria per quanto riguarda gli infortuni? Purtroppo sì perché rispetto alla precarietà si determina una condizione di questo tipo qua si crea una contrapposizione tra due diritti fondamentali quello del diritto al lavoro e quello del diritto alla salute è una contraddizione, una contrapposizione assurda non da paese civile e questa è una contraddizione che sia il sindacato, sia il patronato sia le istituzioni devono affrontare e noi attraverso questi progetti vogliamo affrontare Grazie a tutti